Angela Cerbi fra il primo inredio della Mossa Internazionale di Arte Cinematografica di Venezia con Giuseppe Tornatore, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Per Ennio, su Ennio Morricone, un film monumentale sotto zariati punti di vista, sulla durata ma soprattutto sulla densità dei contenuti e su quanto non si conosceva di Morricone che adesso lei ci ha permesso di conoscere. Quanto è stato laborioso mettere insieme questo ritratto così profondo e spesso? Beh, per certi versi è stato laborioso, per altri è stato invece semplicissimo perché il tutto è nato via via, ecco, inseguendo la storia di Ennio Morricone, inseguendo il suo stesso racconto personale. Il film ha via via seguito proprio la sua dimensione, la sua struttura, anche il suo obiettivo di indagine. Quindi il film si è creato passo dopo passo, insomma. Non c'è stata una premeditazione per certi versi, ma c'è stato un punto di partenza che via via si è evoluto da solo e ha preso per certi versi anche un certo sopravvento rispetto al mio stesso lavoro. C'è stato un lavoro, immagino, di ricerca di archivio incredibile e la cosa più interessante, oltre alle sensazioni, alle descrizioni del lavoro con Morricone, fatto da vari registi, lei incluso, professionalmente, c'è proprio Ennio Morricone, lui, che spiega come lavorava, come costruiva, come... e questa è la cosa, secondo me, più interessante in assoluto e più coinvolgente, perché ci fa riascoltare determinati brani suoi conosciuti per i film con un altro orecchio. E questa è anche una cosa che è nata da sola, immagino. Anche questa è una cosa nata così. Oddio, a me piaceva l'idea che Ennio riuscisse a raccontare in modo comprensibile anche a un pubblico non di addetta ai lavori certi aspetti specifici della sua invenzione musicale. Sapevo che sarebbe stato impossibile raccontare tutto, perché lui ha inventato talmente tanto che non basterebbe un documentario neanche della durata del mio a raccontarlo, ma certe formule, certe invenzioni specifiche si poteva. E lui è stato bravissimo in questo, a raccontare questioni proprio di materia prettamente musicale, compositiva, in un modo tale che possa essere compreso o che possa semplicemente magari soltanto suggestionare un pubblico di non addetta ai lavori. Questo è uno degli aspetti di cui sono più contento. E come è stato lavorare con Ennio Morricone? Lavorare con Ennio Morricone è stato per me semplicissimo, perché noi ormai lavoravamo insieme da molto tempo, ormai da 30 anni, e quindi quando si è trattato di cambiare un po' la formula della nostra collaborazione è di ritrovarci a essere lui davanti alla macchina da presa e io dietro, e stare insieme per giorni e giorni a rievocare, a rintracciare gli elementi interessanti della sua meravigliosa avventura, è stato un approccio diverso, ma la consuetudine della nostra collaborazione era talmente chiara ormai che si è riflessa anche in questa esperienza assolutamente nuova. E quindi è stato come quando si lavorava insieme, cioè io gli chiedevo delle cose e lui mi rispondeva con il suo solito modo semplice e al tempo stesso ricco di genialità, che questa era la sua caratteristica, la semplicità sommata alla genialità. Forse questa semplicità un po' gli veniva anche dal suo passato, perché lui ha fatto l'arrangiatore, ha fatto l'arrangiatore per la musica pop, quindi ha mantenuto forse questa capacità di comunicare attraverso la musica in un modo più diretto, non crede? Assolutamente sì. Lui quando giovanissimo cominciò a essere un arrangiatore, all'inizio un arrangiatore, un fantasma insomma, l'arrangiatore che lavora senza apparire, sotto falso nome, ma quando poi è diventato uno dei più apprezzati arrangiatori del panorama musicale italiano, mi riferisco tra la fine degli anni 50 e i primi anni 60, lui affrontava questo lavoro, cioè arrangiare le canzoni di musica leggera, in un modo molto particolare, cioè lui cercava di rendere ai suoi occhi quel lavoro più colto e più nobile di quanto non potesse essere, come? trasponendo, per esempio, i principi della musica dodecafonica all'interno dei codici della musica tonale. Quindi quelle stranezze che le musiche arrangiate da lui attrevano il pubblico, senza che il pubblico riuscisse a capirne l'origine, era il modo attraverso il quale lui riusciva a riscattare un mestiere che poteva sembrare anche un mestiere umile, forse troppo umile, arrangiare le canzonette. Ecco, lui lo faceva come se anche arrangiare una canzonetta o da come si arrangiasse una canzonetta potesse dipendere il futuro della musica. Quindi per lui ogni cosa era importante, ogni cosa era quella decisiva. E questo è stato sempre il suo approccio, il suo rigore con tutto quello che ha fatto. Ecco perché ancora oggi, quando sentiamo l'arrangiamento di una canzone degli anni Sessanta, avvertiamo sempre che c'è qualcosa di particolare, c'è qualcosa di diverso. E quasi sempre questo qualcosa di diverso coincide con qualcosa di molto nobile, di molto alto, di molto colto. Per cui lui arrangiava le canzoni di Gianni Morandi ricorrendo sistematicamente al contrapunto. Che non aveva niente a che fare con la musica tonale. Che non aveva niente a che fare con quel mondo lì e che non serviva. Ma lui lo faceva sistematicamente. Oppure riusciva a arricchire le pieghe dell'arrangiamento con degli interventi di musica dissonante. Ma fatta in modo tale da alimentare allo stesso modo l'orecchiabilità del pezzo. Quindi lui è stato uno sperimentatore sempre, sin dal primo momento. E questa frequentazione durata molti anni con una musica, un prodotto musicale che doveva avere una facilità di impatto col pubblico per lui è stata una scuola straordinaria che gli ha consentito di avere un arco, un ventaglio di soluzioni musicali talmente ricco da consentirgli di poter muoversi facendo tutto. Ennio sapeva fare tutto dalla musica sperimentale alla musica contemporanea alla musica d'avanguardia alla musica sinfonica alla musica assoluta la musica melodica la canzonetta questo è stato lui il suo rapporto con la musica era fatto di tutto ecco la parola è questa esatto e tutto quello che Ennio era Ennio Morricone era lei è riuscito a metterlo in questo film che speriamo di avervi spiegato e presentato e vi avevi incuriosito a sufficienza io ringrazio Giuseppe Tornatore per essere stato con noi sono Angelo Acerbi per Fred, The Festival Insider Grazie a tutti